Sono pesanti i giocatori da spostare, probabilmente anche perché un po' mi lagga Bravo Bravo Sì, il primo gol di quest'anno Chi lo fa? È proprio lui, Cristofo Roncuncu Il primo gol di quest'anno L'avevo fatto verde però AVERZ Il primo gol del mio Ma che schifo Il mio primo gol su FC è di AVERZ Diamoci sto gameplay di sto FC Ma allora ragazzi, cosa facciamo a prima partita? Per me prendiamo le scopole Questa è la sua formazione? Bappé, Messi, Rashford? Me coglioni In difesa a Tomori? Oh, speriamo che questo sia un pischello scarso Signori, prima partita dell'anno Siamo qui Gustosi A giocartela Guarda che bello Sì, lo scloppone Eccolo qua Eccolo qua Oddio È subito gol No, cosa fa? No È un pezzo di merda Ma no Ma c'è ancora sto kick-off di merda Ma com'è possibile? Che c'è ancora ancora FG24 Un anno diverso È cambiato E c'è ancora sto kick-off di merda Ma io non ho per far gol Non ho Veramente parole C'è uno che esordisce così ragazzi Uno che esordisce così Su FC24 Gli deve scoppiare a casa Dai Parliamoci onestamente Gli deve scoppiare a casa Cioè tu me puoi fare il primo gol di questo Di questo anno Il bug Il bug Cos'è il kick-off qui? Dai Mi stai scherzando? Il mio FC24 parte Parte con un kick-off preso? Prego Prego amici Prego Ah? Ti occupa tutto il campo lui con Rico Andietro al portiere Mamma mia porco I don't want away Adesso Siamo Siamo il Morata il Morata ce l'ha c'ha il piedino caldo Morgan lo fa tende a farlo la Morgan ragazzi no mi ha messo il pressing il bastardo fuori gioco fanculo mi ha messo il pressingone mo un cazzo di problema gigante oh no terzini che salgono tutto c'ha brava scappa scappa Kyle Walker Kyle Walker Kyle Walker no no bro no 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 il 4-4-2 mamma mia ma lei non sa passare la parte letteralmente non sa passare la parte spostato pulibali dalla zia spostato pulibali dalla zia spostato pulibali dalla zia spostato pulibali dalla zia mamma mia sarà una lunga annata questa una lunghissima annata no 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 ah io qua guarda eh culibali però tu qua me la devi spostare non ce metta manacula a questo culibali cioè spostala no va via ahhh maledetto culibali oddio aliscia 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 le man eh lo sa lo fa e ce l'ha pure come si è girato vedi il mio problema è che cerco troppo l'anticipo su sto gioco invece non lo devi fare perché i giocatori sono un po' più piantati massivamente oh che goduria va bravo di a b occhio occhio i coffe madonna mia che palle bello time mamma mia che belli quelli col playstyle plus del razzetto va come casa di a b che ne so ma io devo capire che modulo c'ha questo scusa cioè veramente non capito no 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 dość o si man o questa corre troppo ma sai che certo faccio pure un tiro a giro ti è no Perchè danno la licenza? Ehi, chi stai fai player lock? Ma hai capito che sta a minda La parte iniziale ero io No, è player lock L'orco demonio l'ho falciato L'ho falciato Cosa mi ha dato rosso? Rosso mi sono esagerato Rosso, addirittura Per un gesto screanzato Ah, mi fa pure il pallonetto Mi fa pure il pallonetto No basta, non mi dà un pro player Non c'ho veramente le forze Dimmi che non sei un pro player Arauco Buona squadra Bellingham, Massimino, Tonali Holy shit Vamos raga Madre de dio Aiuto Non ne ho trovato ancora uno normale Ma come mi segue lui? Pazzo Non c'è una partita in cui puoi Non dico divertirti Ma proprio pigliarla un po' la leggera Eh, raga Sono tutti impazziti Sti primi giorni E dalla via Sta palla Niente, raga Non riesco a fermarli Dentro l'aria Sono infermabili Tempo che switcho il giocatore Impossibile Impossibile trovare uno spazio Tira bene Zio porco Va, time at verde Il primo che faccio da quando c'ho il gioco Godo Bravo Arauco Ma c'ho anche uno che colpisca Che colpisce di testa Finalmente Questa è una palla Micidiale Che palla gli ha dato lì la La tipella Oh Che so, Ofference No, 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 no Il novantesimo, no Bro Ci provare proprio Ragazzi Cioè Non è fisicamente Fattibile vivere così Le partite Sono dei mostri questi Oh, sono dei mostri GG Cioè Faticosissimo Faticosissimo Creare qualcosa contro questi Vi dirò Il gameplay non è brutto Però è difficile Soprattutto difensivamente Non so difendere Non so proprio difendere Cioè Troic problems